Nessun nuovo contagio e nessuna vittima. Restano invariati rispetto a 24 ore fa i dati relativi alla pandemia di coronavirus in Puglia. La conferma arriva dal consueto bollettino epidemiologico diramato dalla regione che anche oggi, martedì 14 luglio, non riporta ulteriori casi di positività al virus sulla base di 2.661 tamponi effettuati. I contagi complessivi restano così fermi a quota 4.541 tra attualmente positivi, deceduti e guariti. E non cambia neanche il bilancio delle persone morte per cause legate al covid, 547 in totale dall'inizio dell'emergenza sanitaria. Nessuna novità sul fronte dei guariti che restano in tutto 3.926, praticamente gli stessi di un giorno fa. Invariato anche il numero dei pazienti attualmente positivi, 68 di cui 58 si trovano in isolamento domiciliare, mentre 10 sono quelli ricoverati con sintomi. Restano vuoti i posti letto nei reparti di terapia intensiva.